Ok, eccoci, siamo di nuovo all'interno del mio canale, siamo all'interno del mio canale e oggi siamo con un grandissimo ospite, come tutti quelli che ho invitato all'interno del mio canale ovviamente, lui è un grande amico e ci andiamo a ricollegare con lui ad un'intervista che già ho fatto e l'ho fatta a Flavio Mazzampi, stiamo parlando oggi del suo, insomma ci siamo capiti. Dici, dici ospite, chi sei? Ciao a tutti, ciao caro Marco e ciao a tutti gli ascoltatori, non sono il fidanzato di Mazzanti, ecco volevo subito chiarire questa cosa perché dal gesto che hai fatto si poteva equivocare. No, no, ma questo gesto era per socio, per insomma compagno di avventure. Ci tengo a specificare che non siamo ancora fidanzati e ci stiamo pensando, abbiamo dei dubbi diciamo, abbiamo dei dubbi. Però ecco, insomma, se mi devo presentare in poche parole, io sono chairman of the board, mi sono dato questo titolo in quanto CEO è un po' sputtanato come nome, no? Allora mi piace definirmi chairman of the board che è anche il titolo corretto perché sono amministratore delegato, diciamo, anzi ho già sbagliato, presidente del consiglio di amministrazione di Studio Samo, che è la società con cui operiamo nel settore digital marketing insieme a Flavio naturalmente e il motivo per cui appunto sono legato a Flavio diciamo in senso biblico fortunatamente è il fatto che appunto Flavio è quello che si direbbe, quelli fighi direbbero co, cioè quello che si occupa di tutta la parte progettuale di Studio Samo. Io diciamo che se vi siete già guardati la puntata con Flavio, sapete già un po' la storia, io mi sono tra virgolette chiamato fuori dal lagone, diciamo, di tutta la parte consulenziale e servizi di Studio Samo per dedicarmi più alla parte formativa. Sì, sì, ma a questo ci arriviamo adesso perché ci voglio arrivare piano piano, proprio io voglio partire da zero. Voglio partire, come hai iniziato? Come ti è saltato in mente di salire su questo cavallo della SEO, su questo cavallo del digital marketing eccetera e iniziare il tuo cammino? Bella domanda. Grazie per la domanda. Io ho iniziato con filosofia, nel senso che sono laureato in filosofia e tu direi che cazzo c'è? Si possono dirle parolacce a proposito? Puoi fare quello che vuoi, sei libero. Meraviglioso. Tu direi cosa c'entra la filosofia e io da bravo filosofo ti dirò la filosofia c'entra sempre con tutto, qualunque cosa tu faccia. Però al di là di quello, insomma, dopo la laurea in filosofia, non sapendo, non avendo insomma una professione, perché il filosofo fa il filosofo, ma non è che le aziende diciamo si strappano le vesti per assumere filosofi, mi sono inventato qualcosa. Quel qualcosa di allora era partire da quello che era la mia piccola esperienza nel digitale, perché i miei genitori avevano un'azienda informatica, allora non c'erano le web agency, c'erano le software house, nella fattispecie ci sono ancora le software house, però allora c'era solo quello. I miei genitori, mio padre aveva una software house e io da ragazzino, diciamo, mi piaceva la parte creativa più che la parte tecnica, quindi non ho mai programmato, a dire il vero, ma creavo le pagine web, le pagine html, allora non si chiamavano neanche siti, si chiamavano pagine html, quindi da quell'esperienza lì poi ho aperto la mia agenzia, che agenzia, insomma, allora Studio Samo era, ero io fondamentalmente, io poi con un altro paio di persone. Cioè tu hai iniziato il tuo percorso all'università pensando di essere assunto da qualche parte, quindi c'è. No, assolutamente no, io pensavo di fare ricco di famiglia e per quello ho fatto, no, ti giuro, questa è stata la motivazione per cui ho fatto filosofia, poi ahimè l'azienda dei miei genitori è fallita, quindi ho detto, oh cazzo, qui è meglio che mi inventi qualche cosa. Allora, giunto all'età, insomma, della ragione ho detto, qua è meglio che mi invento qualcosa. Ho iniziato la parte, come ti dicevo, più creativa della cosa, quindi io creavo siti web sostanzialmente, anche perché allora il web non aveva molta offerta, diciamo come oggi. C'era la creazione di siti web e poi basta, fondamentalmente c'era la programmazione per le parti più tecniche. Non c'era la SEO o comunque si iniziava allora a parlare della SEO, ti parlo del 2004. Te lo stavo per chiedere, ti ricordi più o meno che anni? Esatto, sì, 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 mi ricordo precisamente nel senso che io ho iniziato a fare cose nel 2004, poi l'azienda è stata aperta nel 2005, quindi Studio Samo ha una storia di 15 anni possiamo dire, anche se allora era una società più piccola, era una vita di persone, aveva anche pure un altro nome, comunque si è evoluta nel tempo e si è evoluta anche ovviamente in quello che facevo io e che facciamo e che facevamo, nel senso che mentre allora... Scusami, tu mi dici, io ho iniziato a fare pagine web, dopodiché ho aperto l'azienda? Cioè è stato così il passaggio? Sì, 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 assolutamente sì, nel senso che io... Non avevi già magari qualche primo cliente? Ma diciamo che ho ereditato un paio di clienti che erano, appunto, provenivano dalla vecchia azienda dei miei, ma erano fondamentalmente un paio di clienti che non mi consentivano di comunque di tirare avanti più di tanto, insomma. Sì, perché sai, normalmente il passaggio alla partita IVA è sempre un po' difficile, specialmente quando parli con gli altri, perché gli altri ti dicono subito, eh ma ce l'hai tu un volume che già giustifica il fatto di aprire la partita IVA? No, io mi sono buttato proprio dal quinto piano, nel senso senza paracadute, nel senso che io ho detto che cazzo faccio, apro la partita IVA, nel senso che secondo me ci nasci il fatto in un certo modo, io non sono nato dipendente fondamentalmente, proprio un indole. quando secondo me qualcuno si crea, non ti devi tanto preoccupare del fatto che hai il volume o no, certo, ti devi preoccupare anche di questo, non dico di fare, di non essere saggi, però più che altro ti devi preoccupare di essere felice fondamentalmente, adesso sembro Fabio Volo, perdonami, però io non sarei mai felice. No, ma sai guarda, è una cosa che è emersa in diverse interviste questo, non proprio l'aspetto della felicità, ma comunque l'aspetto dell'essere free, di testa proprio. Sì, 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 ma è una questione di amare ciò che si fa, io amo quello che faccio e amerei quello che faccio anche da dipendente, ma proprio è nella mia natura non essere dipendente, anche se qualcuno mi offrisse, anche se Marco tu so che mi chiami sempre e mi dici ti offro 100.000 euro al mese, come vedi io rifiuto sempre per un motivo, perché io sono free, sono così e sono sempre stato così anche quando non avevo i clienti, i clienti ci sono arrivati dopo. Quindi è stato un momento difficile, tant'è che allora io, allora c'era un altro problema nel 2004-2005 che non esisteva l'inbound marketing, anche perché l'ho portato io in Italia anni dopo, quindi so bene di cosa parlo, quindi non esistendo l'inbound marketing, io avevo strutturato una mia piccola agenzia come una mini pagine gialle, nel senso che avevo preso una, con tutto il rispetto per pagine gialle o come si chiama, insomma adesso non mi ricordo il nome, ma l'approccio, il modello era quello di avere un call center, che poi era una persona sola, e un commerciale. Eri solo tu? No, 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 io ho sempre preso, ho già iniziato collaborazioni sin dall'inizio, in realtà non sono mai stato freelance, sono ancora più matto, ho iniziato subito a bomba, a prendere persone, poche persone ovviamente, ma avevo una persona che faceva il call center umano, cioè chiamava tutto il giorno, avevo una persona che faceva il venditore, il classico commerciale, quindi avevo una struttura molto classica. Sì, e riuscivi a pagarla con quei pochi clienti che avevi in quel momento? Con le commissioni? Beh no, con i clienti che lei trovava, con le chiamate che faceva tutto il santo giorno. Insomma, era una ruota che girava così, ma molte aziende tuttora hanno un approccio del genere, è il classico approccio anni 80? Sì, 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 sì. Era prima di internet, no? Cioè il telemarketing e il commerciale che va in giro, telemarketing fissa gli appuntamenti, il commerciale va in giro, discute gli appuntamenti, si porta a casa il cliente e dopodiché la ruota gira. Questo è stato l'inizio. Poi dopo, pian piano, scoprendo anche la SEO, ho dirottato tutto il discorso acquisizione clienti attraverso poi tutto quello che è poi l'inbound marketing vero e proprio, ovvero il call center oggi Studio Samo lo fa col blog, nel senso noi oggi siamo una delle forse l'unica realtà strutturata che non ha una struttura commerciale. Noi non abbiamo account, non abbiamo commerciali, noi tutta l'acquisizione dei clienti oggi deriva dal web. È virtuale. È virtuale, assolutamente sì. Quindi per inbound marketing tu intendi esattamente cosa? Beh, io intendo appunto il ribaltamento del concetto dell'interruption marketing, ovvero... Aspetta, se parli così poi ti devo chiedere, per interruption marketing che cosa intende? No, andiamo all'infinito. Perfetto, è il contrario dell'inbound marketing, vedi? Perfetto, perfetto. Allora, la distinzione è semplice, tutto quello che è interruption marketing è la forma di comunicazione che ti interrompe. Quindi parlavamo prima del telemarketing, no? Il telemarketing è una classica forma di interruption marketing, ovvero io mi sto facendo i fatti miei, sono a casa, sono in azienda, ricevo una chiamata di un operatore che mi vuole vendere qualcosa, ok? Mi vuole fare una proposta. Questa è interruption marketing, ma esiste in tantissime forme. Per esempio anche la pubblicità in televisione è interruption marketing perché ti va a interrompere mentre ti stai guardando un film, mentre ti stai seguendo qualcosa. Stessa cosa per la radio, i giornali, possiamo andare avanti. Quindi è quella meno gradevole, va? È quella meno gradevole, esattamente. Ma è anche quella più vecchia, perché prima di internet, se ci pensi, era tutto interruption marketing o il 90%. Da quando, insomma, si è sviluppato il web con i motori di ricerca, ma anche con i social network, con tutto l'ambaradan del web che sostanzialmente è informazione, noi possiamo fare inbound marketing che è una nuova forma di marketing, nuova, direi il vero adesso c'è già qualche annetto, però è una più moderna forma di marketing che ti consente di attrarre persone invece che di interromperle. Il classico caso è la SEO. Tu con la SEO ti fai trovare, non stai infastidendo qualcuno. Tu ti fai trovare nel momento che questo ti cerca. Così come quello che puoi fare con le community sui social network. È la stessa cosa, è una forma di promozione meno invasiva, molto spesso più efficace, perché va a colpire il cliente nel momento giusto, cioè nel momento che sta cercando qualcosa o nel momento in cui è interessato a qualcosa. È molto più possibile targettizzare, quindi rivolgersi alle persone giuste e le persone giuste ovviamente saranno meno scocciate dalla tua comunicazione. E in questo modo si può sviluppare un'impresa, secondo me, a qualunque livello, anche senza bisogno di gente che va in giro, bussa le porte e vuole proporti i suoi prodotti, i suoi servizi. Questa è la sintesi dell'inbound. Sì, chiarissimo. Quindi a questo punto tu hai iniziato a strutturare l'azienda, hai iniziato con il telemarketing, eccetera, eccetera, dopodiché il passaggio qual è stato? Ma i passaggi, a dire il vero, ce ne sono stati diversi. Ci sono stati dei passaggi... Il primo passaggio storico è quello del passaggio alla SEO, perché a un certo punto io facevo siti web e ti racconto un aneddoto, visto che siamo in libertà. Io ero... Io ho una brutta abitudine che al telefono urlo. Non so perché. Forse perché sono un po' sovordo. Comunque, stavo in palestra, nello spogliatoio, stavo parlando con un cliente al telefono, abbastanza forte, si avvicina a un tipo, ti parlo del 2006, eh? Si avvicina a sto tipo e fa Ah, ho sentito che fai lavori in internet, fai siti web, per forza. Ho sentito, stavo urlando, per forza. Comunque mi fa, io faccio posizionamento... Non disse neanche SEO, non disse una parola SEO. Dice, io faccio posizionamento sul motore di ricerca. Io dissi, ma veramente? Ma è un mestiere? L'ho detto, ma fai solo quello? E lui fa, sì, io faccio questo. Eureka. E io dissi, ma che cazzo, ma che diavolo è sta roba? Andai a casa, andai su Google e iniziai a googolare posizionamento sul motore di ricerca. Non so, neanche se potesse fare questa cosa. Da lì iniziai a informarmi, naturalmente, a appassionarmi della materia, a trovare un modo in più per fare soldi. È un modo che a me appariva anche molto, molto... Snello. Forte, snello, perché allora eravamo in pochi a fare SEO. E poi la SEO ti dà un grande vantaggio, che ha un rapporto continuativo. Perché il sito web lo fai ed è un accountum, no? Certo. Quindi fai un sito, ma anche un progetto grosso a un certo punto finisce. Non è che vai avanti all'infinito a fare il sito. Sì, ok, dopo c'è l'assistenza, restyling, però sono progetti. La SEO, invece, ha un rapporto continuativo. Tu sai bene, Marco, insegni che... non ci si può fermare con la SEO. Comunque c'è sempre da correre dietro ai cambi di algoritmo. A proposito, come sta Bert? Ahimè, lo so. Come va con Bert? Però là tutto bene, devo dire. Devo dire, ho preso le mie batoste, però tutto bene. Eh, va bene, va bene. Fa piacere, fa piacere. Anche di qua tutto è abbastanza bene. Quindi io cosa ho fatto? Adesso non ho... Su questo è una cosa secondo me importante come messaggio. non ho subito iniziato a vendere la SEO. Ho imparato la SEO, ho detto, ho già i clienti, vado dai clienti a cui ho fatto il sito e li propongo la SEO. No, non ho fatto così. Mi sono aperto due siti miei e me li sono bombardati di tutto quello che poteva essere fatto. Quando ho raggiunto buoni livelli con quei due siti web... Si intende i contenuti? No, intendo tutto. Tutto quello che era la SEO di allora, che era come adesso fondamentalmente... Spam. Tu l'hai detto, Carlo. No, era... A parte che come adesso, come adesso i due pilastri della SEO, come adesso sono contenuti e link. Questo è confermato e vale anche oggi. Cambia, ovviamente, il modo in cui facciamo link building, ovviamente. Parlo di un momento pre-Penguin, della famosa era pre-Penguin. Quindi non esistevano filtri algoritmici né penalizzazioni manuali. Quindi era un po'... Fino al 2012 tutti salvi? Tutti salvi, tutti salvi. Dopo sono rimasti, come nelle tempeste, rimangono solo quelli bravi. Però prima si dice, no, quando il mare è calmo, ogni stronzo è marinaio. Quindi... Prima del 2012 eravamo tutti SEO. Forse mi sto un po' facendo prendere dalla storia delle parolacce. No, no, vai, vai, tranquillo, non c'è problema. Va bene. Comunque, sì, all'epoca era spam puro la parte di link building. La parte di contenuti, ovviamente, era molto meno, come dire, ti dovevi dar da fare molto meno di adesso. Perché allora ti ricordi che un pillar article era 500 parole. Quando uscì per la prima volta la parola pillar article, che già era 2009-2010, si parlava di articoli di 500 parole, come pillar article. Oggi se parli di un articolo di 500 parole, diceva, beh, ma cos'è questo? È una roba ridicola. Quindi, al di là della lunghezza, anche la qualità e l'approfondimento dei contenuti era molto inferiore. Ma stava a scrivere molto meno, usare un po' di sinonimi, un po' di stuffing, perché poi allora si faceva anche quello. E quindi così, comunque, con i mezzi di allora, io ho preso questi due miei siti e li posizionai bene. Che c'era ancora online? Guarda, ti dirò, uno poi è stato pinguinato. Uno è stato pinguinato perché era un progetto, pensa te, si chiama, si chiamava, credo che sia ancora online, si chiama ristorantibologna.net. Ah, ok. È un portale ed è stato per molti anni, prima che arrivasse TripAdvisor, era il TripAdvisor dei ristoranti di Bologna. Poi dopo è arrivato TripAdvisor, ovviamente mi ha distrutto, in più mi sono distrutto da solo perché a un certo punto quel progetto mi interessava il giusto, lo utilizzavo come pattumiera di link per i clienti. e quello insieme a un altro progetto personale. Però in quegli anni ottenne i risultati, funzionava. E quindi prima di mettere le mani sui siti dei clienti, ho detto aspetta, fammi fare qualcosa. I siti web li so fare, ne faccio due io e poi vedo come va. Ne ho fatto un paio di progetti personali, dopodiché ho messo le mani ai clienti. E da lì ho iniziato con la SEO. Poi dopo sono arrivate tante altre cose, sono arrivati i social network, poi dopo abbiamo aperto, molto dopo abbiamo aperto tutta la parte formazione nel 2012 e poi è arrivato Mazzanti anche. Ebbene, non può andare tutto bene nella vita, qualcosa di male ti deve pure capitare. Ma tu com'hai fatto prima di Mazzanti? Ah, non lo so, non lo so neanche io. Ma prima di Mazzanti era un casino nel senso che a un certo punto, come ti dicevo, a un certo punto nel 2012 noi iniziamo a fare formazione. Quindi dopo che avevamo fatto servizi per diversi anni, abbiamo provato a fare qualche corso. Anche lì, allora c'era poca roba in giro. E dopodiché, tramite la formazione, proprio perché come dalla parte... Sempre con il concetto dell'inbound, la formazione? Ma sì, sempre con il concetto dell'inbound. Poi è arrivato... sono arrivati altri strumenti, perché l'inbound poi non è solo SEO, naturalmente. È arrivato uno strumento, diciamo, l'arma di fine di mondo è stato Facebook Ads. Perché quando arrivò Facebook, arrivò la pubblicità su Facebook, molti non ci credevano, molte aziende non ci credevano. I SEO in primis che andavano tutti su YouTube. No, scusami, su Google+, non su YouTube, su Google+, e non credevano proprio nel mezzo Facebook. Così come tante aziende non credevano nella pubblicità su Facebook. Tanti professionisti non credevano in Facebook Ads, dicevano, no, io continuo a fare AdWords perché funziona molto meglio, eccetera. Noi invece... Anche perché è uno strumento totalmente differente, no? Era proprio un cambio di ragionamento. Assolutamente. Poi, certamente, diciamo che è chiaro che i due strumenti non sono paragonabili, perché l'uno lavora su quella che si chiama domanda consapevole, e l'altro sulla domanda latente, ovvero Google Ads, l'allora AdWords, lavora sulla ricerca. Certo. E l'altro lavora sulla scoperta. Quindi la gente non ti cerca, ma tu capiti nel newsfeed di persone che per qualche motivo sono interessate. Quindi l'algoritmo di Facebook ragiona sugli interessi che puoi avere, sulle affinità, su altre cose. E quindi gli strumenti non sono affatto paragonabili. Però allora, insomma, la conoscenza era anche molto, molto inferiore. E quindi c'erano questi paragoni. Purtroppo ci sono ancora oggi, ma c'è da fare una bella strada di divulgazione per spiegarlo. Comunque Facebook Ads, col fatto che eravamo in pochi a farlo, aveva costi bassissimi, costi inimmaginabili rispetto a quelli di adesso. Ovviamente Facebook Ads come Google Ads hanno in comune che sono delle aste, fondamentalmente. Sono delle aste e quindi più aumentano gli inserzionisti, ovvero le persone che competono per gli stessi spazi, più aumentano i costi. Quindi negli anni la pubblicità è diventata sempre più costosa. Però allora, veramente, nel 2012 con pochi euro su Facebook facevi un botto di, ottenevi un botto di visibilità. Poi c'era l'organico che andava ancora fortissimo sui social. Quindi ricevevamo un botto di visibilità tutt'assieme. E facevamo corsi, i corsi partivano. Il problema fu che eravamo ancora in una struttura piccolissima, eravamo tre persone. E nonostante questo c'era formazione SEO all'interno dell'azienda? C'era formazione e servizi all'interno dell'azienda. Proprio perché a un certo punto non riuscivamo più a gestire niente bene. Cioè c'era troppa roba, c'era troppa richiesta rispetto a quella che riuscivamo a gestire. Capitava che fondamentalmente arrivavano tutte queste richieste. Noi o non eravamo in grado di gestirle o le gestivamo comunque in ritardo, quindi le gestivamo male e poi non avevamo neanche la struttura, le risorse per poter fare il lavoro. A un certo punto feci il famoso patto col Mazzanti, che tu già sai perché è stato ospite. Il patto non patto praticamente. Dopo mesi che rispondevo alla notte, fino alle due di notte alle richieste di preventivi, feci una scelta e incontrai Mazzanti. A un certo punto lo incontrai in spiaggia, eravamo in ciabatte. Fantastico. Eravamo a una Beach and Love di Salvatore Russo, una delle prime, e a un certo punto gli dissi, ma senti sai che c'è, ma tu li vuoi, se io ti giro dei lead, tu me li gestiresti tu, io mi prendo una percentuale ovviamente per la segnalazione, come vuoi chiamarla, e poi fai tutto tu. A me basta che non mi fai fare figure di merda, nel senso che fai il lavoro bene, e poi non mi interessa niente. Non mi interessa più. Ma voi non vi conoscevate? Noi non ci conoscevamo. Cioè ci eravamo visti a una SEO Pizza una volta, e lì insomma siamo entrati in simpatia, poi i tuoi due di Bologna, insomma una cosa o un'altra. Lui mi è sembrato una persona affidabile, poi non è che gli ho dato le chiavi dell'azienda, gli ho detto senti facciamo una prova, ti giro due lead, vediamo come va. Però dico gli hai dato un sacco di fiducia, voglio dire. Gli ho dato fiducia. Hai avuto molto fiuto in questo senso. Ma ho avuto, in realtà sì, ma anche è stato molto bravo lui anche, devo ammettere. Perché neanche lui ha fatto un salto nel vuoto. Chiaro, chiaro. L'hai conosciuto e hai anche fatto l'intervista anche con Danilo, anche Flavio ha avuto vicissitudini alterne, quindi ha avuto diversi soci, anche altri, non Danilo, però ha avuto altri soci veramente pessimi, possiamo dire, con cui ha rotto i rapporti. Quindi si sono avvicendati poi diverse situazioni anche da parte sua, così come da parte mia. Quindi dopo un po', dopo che abbiamo fatto questo test, dopo abbiamo deciso di unire le forze e creare una realtà unica come studio sano. Ficata. Questa è stata l'incipit di tutto quanto. È una figata questa, perché comunque incontrarsi così, pensare di iniziare a fare un percorso aziendale, lavorativo, di collaborazione, come soci, così dal nulla. Dal nulla. Senti, io ho questa cosa, te la gestisci tu? Sì, ok. E poi combinerai quello che avete combinato. Esatto. Perché non si è fermato tutto semplicemente al gestiamo i clienti. Da là è iniziato un percorso. Sì, ma in realtà poi il bello è che io e Flavio sappiamo fare cose diverse, siamo diversi. Lui è ingegnere, io sono filosofo, c'è poco da dire. Lui è quello che a volte, diciamo, mi tiene con i piedi per terra, io sono quello con la testa tra le nuvole. Quindi lui mi tiene molto con i piedi per terra e io lo faccio un po' sognare, quello sì. Quindi io sono quello che a volte parte con dei progetti, ma a dire ambiziosi è poco. E lui è quello che riesce a trattenermi, a tenermi i piedi per terra e soprattutto a realizzare i progetti. Quindi magari se io ho l'idea, lui è quello che la realizza. Quindi ognuno ha le sue competenze in azienda, ognuno sa fare le sue cose, ognuno fa bene le sue cose e poi da una parte e dall'altra poi le cose si sono cresciute e si sono autoalimentate. Poi, dopodiché, adesso abbiamo una squadra di più di 25 persone. Era la prossima domanda. Adesso come siete strutturati? Adesso siamo tutti a casa, siamo strutturati così. Come vedi, la mia bellissima cucina lo dimostra. Però siamo strutturati... Ma tu hai spostato tutti i piatti, quelli da lavare, dall'altra parte, giusto? Eh, no, sono tutti una pastoviglia. Ho fatto il bravo perché oggi avevo due dirette, quindi ho lasciato di solito un inferno qua, ma lasciamo perdere. Comunque ho fatto il mio dovere di pulizie. Però, come siamo strutturati? Siamo strutturati che abbiamo 22 persone che lavorano ai progetti. Quindi, fissi, diciamo, in azienda, nessuno fa smart working. Progetti che intendi? Cioè, un corso è un progetto? No, 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 no. Allora, passo indietro. I progetti sono i servizi che offriamo. Quindi, io li chiamo progetti perché sono quasi sempre, nel 90% dei casi, noi prendiamo progetti chiave in mano di digital marketing. Cioè, non prendiamo il cliente che ci chiede, fammi un sito web. Però abbiamo un team sviluppo e design con quattro persone e possiamo fare siti web. Però non lo facciamo perché noi prendiamo progetti, nell'ambito del progetto possiamo fare il sito web se c'è bisogno di rifarlo. Possiamo farti la SEO, se hai bisogno della SEO, possiamo farti l'advertising, ma di solito si ragiona in termini di progetto completo. Nella maggior parte dei casi, il cliente Studio Samo viene seguito in tutto quello che riguarda il digital marketing, dall'A alla Z. È una scelta. Noi abbiamo scelto, a me piace la metafora della boutique. Cioè, è abbastanza curiosa qualcosa questa. Sì. Mi dà molta curiosità. La boutique. Eh, beh, ti spiego. La mia idea di boutique è quella di fare abiti su misura. Abiti che chiaramente hanno un costo superiore all'abito che compri alla standa, con tutto il rispetto. Però è un abito su misura, come vuoi tu. Quindi, piuttosto che avere e gestire 500 clienti l'anno, che potremmo farlo perché gli derivano comunque. Certo. Abbiamo scelto di gestire 30 clienti all'anno, ma farli il vestito su misura. Quindi, non vogliamo un modello di ti vendo un pacchetto, ok? Ma io ti vendo un progetto, per questo ti parlo di progetti. Un progetto vuol dire... Cioè, come riesci a quantificare in denaro con il cliente il progetto? Perché entro in confusione solo a pensarci. Questa è una bella domanda. È una delle parti più difficili, naturalmente. È una domanda che poi, giustamente, risponderebbe meglio il Mazzanti. Magari la rifacciamo poi quando faremo l'intervista doppia. Però ti dico il nostro approccio. Il nostro approccio è naturalmente parte da un brief col cliente. Naturalmente tutto parte dagli obiettivi. Per quantificare tu hai bisogno degli obiettivi. E non c'è un minimo di budget, se non... Chiaramente c'è un limite oggettivo che dipende dal settore in cui operi, ok? Ti faccio un esempio. Viene da te l'e-commerce di abbigliamento e gli fai un discorso per cui gli dici senti qua o hai un budget della Madonna oppure... o hai un prodotto veramente di super nicchia, ma se parliamo di un e-commerce che vende prodotti generalisti, quindi le scarpe della Nike, per intenderci le Polo di Ralph Lauren, piuttosto che le camicie così, allora in quel punto tu gli dici guarda il tuo settore è talmente concorrenziale e sul web ci sono talmente dei potentati che tu devi comunque investire un sacco di soldi Certo, la parte difficilissima è quella proprio, no? Eh sì. Da solo... Se io pensassi solo alla SEO, già ci sono dei budget abbastanza elevati. Perché comunque ci sono dei competitor agguerriti che comunque il budget lo investono. Sì, però tieni conto che, ripeto, si parte sempre dagli obiettivi. Se tu hai invece un professionista, noi abbiamo anche un traslocatore, per esempio, abbiamo un dentista, abbiamo uno psicologo. Il professionista che ha un progetto local, quindi che lavora con una clientela che è circoscritta in una certa area, in una certa zona, a meno che tu non parli di Milano e Roma, che sono ovviamente concorrenziali quasi come il nazionale, dato il numero di persone banalmente che ci abita, tu puoi fare un buon lavoro anche con costi bassi. Quindi relativamente bassi, ovviamente. Quindi tu devi pensare sempre all'obiettivo che ha il tuo cliente. Ero fiondato sull'e-commerce. Sull'e-commerce, sull'e-commerce sì. Sull'e-commerce naturalmente si parla di investimenti di un certo tipo se tu vuoi scalare il suo piano nazionale. Poi anche lì dipende tutto dal settore. Noi per esempio abbiamo un e-commerce specializzato in articoli da tennis, dove chiaramente c'è competizione, perché in tutti i settori comunque dove vendi c'è competizione, ma non c'è tanta competizione come nell'abbigliamento, per esempio. Lì comunque puoi fare un lavoro anche lato SEO, andando a trovare parole chiave, coda lunga, magari che non sono esplorate dai competitor. I grossi player, ovvero i grossi store verticali sul tennis online, sono pochi, non sono tantissimi, sono un paio. Quindi anche lì tu con un budget di advertising e un budget di SEO, perché poi fondamentalmente sono questi due che spostano gli equilibri, quello che spendi in advertising, quindi quello che spendi in Google Ads, in Facebook Ads, e quello che spendi nella SEO. Fondamentalmente gli asset del top of funnel, quindi della parte alta del funnel, quindi per portare traffico verso il sito, sono questi fondamentalmente. Poi dopo c'è tutto il discorso magari del mail marketing, della parte del crow, eccetera, eccetera. Però il grosso della spesa è nella parte alta, quindi nell'acquisizione di contatti e di lead, e di aumento del traffico. Quindi anche lì dipende molto dal settore e dagli obiettivi del singolo cliente. Una volta che hai fatto un'indagine, sia su quelle che sono le esigenze del cliente, sia su quello che è il settore di riferimento, sia su quella che è la concorrenza, quindi la classica analisi di mercato, che andrebbe fatta sempre, puoi quantificare anche un investimento minimo da proporre al cliente finale. Sì, e là sono cazzi. E là sono cazzi amari. E là sono cazzi amari. Però, insomma, però, diciamo che la scelta, la scelta nostra è stata questa. Poi è chiaro che in certi casi facciamo anche servizi specifici, magari facciamo solo la SEO per un progetto o per l'altro, però generalmente i nostri progetti sono progetti che prevedono tutto il digital marketing. Anche se siamo un po' più noti per la SEO, in realtà il digital marketing, tutto quello che riguarda il digital marketing è il nostro, diciamo, pane quotidiano, assolutamente. E invece, per quanto riguarda la parte dei corsi, io so per certo che hai un'academy. Per certo. Certo. Mi fa piacere. Mi fa piacere che tu lo sappia. Io ho la prima e la più vasta selezione di videocorsi di digital marketing in Italia. Sono oltre 170 corsi per un totale di più di 790 ore di formazione in digital marketing in tutti i suoi argomenti. Quindi io lo chiamo il Netflix del digital marketing. Sì. A te come è venuta l'idea di fare questa cosa? Ma di fare questa cosa? Di fare videocorsi o di fare il Netflix? No, di fare il Netflix. Allora, di fare videocorsi è stata un'esigenza che è nata un po' proprio dai miei allievi, perché ho iniziato a fare corsi in aula e poi dopo gli allievi stessi hanno detto ma quando è che fate dei corsi online? Noi siamo partiti con i corsi online e poi nel 2018, dopo che avevamo già avviato la piattaforma di corsi online, che era una piattaforma in e-commerce, quindi dove acquistavi il singolo corso, no? Sì. Io cosa ho fatto? Ho chiuso l'e-commerce e ho aperto una membership, cioè un abbonamento. Ho detto, cari ragazzi, da ora in poi i singoli corsi non si possono più comprare, o vi abbonate o ciccia. Sì. Quindi questa è stata, con un e-commerce che aveva un fatturato di quasi mezzo milione, ti parlo, quindi non è che l'ho buttato via perché non andava da nessuna parte, no? Mi ricordo perfettamente al SEO CMS che hai fatto le slide e poi hai fatto vedere quanto avevi prodotto. Esatto, esatto. Ho fatto il salto, ho fatto un salto nel vuoto. Tra l'altro ho letto un libro molto molto illuminante sul tema che posso consigliare. Mi permetti di fare il Montemagno? Ma assolutamente sì. Tutto quello che tu vuoi linkare me lo dici e lo metto qua in descrizione. Va bene, allora, il libro, spero di non sbagliare il nome perché l'altra volta ho sbagliato il nome, dovrebbe essere John Warrillow, Warrillow col W. Il libro si chiama The Automatic Customer, il cliente automatico. Sì. C'è anche la versione italiana, ma non so perché, la versione italiana costa un botto di soldi, costa 50 euro, mentre quella inglese costa 20, quindi ce l'hai? Ce l'abbiamo? Questo? O là. Ce l'abbiamo. Eccolo lì, lui, lui. Ve ho anche attaccato il nome, che meraviglia. Che meraviglia. Ecco, grande Markov, che mi fa piacere che l'abbia anche tu, per me sta... Assolutamente, insieme a questo. Ah sì, questo lo devo ancora leggere, me ne ha parlato bene, però il cliente automatico, è un libro tanto semplice quanto illuminante perché mi ha veramente chiarito le idee e anche dato molte conferme di cose che pensavo già. È tutto sui modelli di business della membership. quindi subscription, che è un modello che adesso sta arrivando forte anche in Italia. Sì, sì. Quando qualche anno fa era un po' era un po' meno diffuso di adesso. Adesso con Netflix, con Spotify, con tutti questi abbonamenti, con Prime, soprattutto Amazon Prime, siamo un po' più abituati anche ad abbonamenti digitali. ma ho pensato di chiudere la mia Academy di allora, che erano singoli videocorsi, e creare l'abbonamento. L'abbonamento perché fondamentalmente, oltre ad essere un modello di business vincente, come spiega, fuori low. Ah, il vantaggio che io ho trasformato la criticità che avevo, ovvero l'obsolescenza dei corsi, in un vantaggio. Ah, chiaro. Adesso se ti abboni tu hai il problema del nostro settore, che un videocorso può essere vecchio tra un mese. Io mi ricordo il bellissimo corso che feci con Danilo, proprio con Danilo, che fece un corso per noi sull'Academy, e fece un corso su Google Webmaster Tools. Appena pubblicai il corso, il giorno dopo, quello stronzo di Google, cambio il nome, senza cambiare niente dentro, perché allora era idea, non c'era ancora la nostra sponsor di adesso. Ti ricordi che cambiò solo il nome, feci un rebranding, ma dentro era identica. Quindi io avevo un corso che non potevo vendere perché il nome era sbagliato. Dentro al corso, Danilo diceva diecimila volte Google Webmaster Tools, e io quel corso lì me lo sono messo dove sai, dove immagini. Sì, sì, sì. È un problema questo. Con l'abbonamento noi diamo garanzia ai nostri abbonati di essere sempre aggiornati, non perdere più un aggiornamento. La promessa che abbiamo fatto è quella di fare un corso a settimana almeno, quindi abbiamo un nuovo contenuto ogni settimana. In questo periodo di quarantena ne stiamo facendo due a settimana, quindi ci sono ben due corsi ogni settimana. Chi si abbona anche solo per un mese può avere una formazione che nessun altro può offrire, e poi se uno decide di rinnovare, ovviamente con un piccolo prezzo rimane sempre aggiornato e quindi può essere anche a riparo da quelle che sono le evoluzioni naturali del nostro settore, no? Perché quello è un po' il problema, se vogliamo. Certo, certo. Adesso però che tu stai creando tantissimi corsi, giusto? Perché adesso due corsi a settimana vuol dire che comunque tu hai dato una fila entrata, mettiamo che dieci è la fila entrata, quando sei entrato magari avevi dieci corsi. Adesso invece ne hai cento, giusto? Tu pensi che nel tempo questo modello possa cambiare un po', perché magari poi risulta più conveniente vendere il corso singolo, perché il corso si è abbattuto il prezzo praticamente del corso? In realtà no, perché proprio perché è un come dice come dice Warilow io ho imparato a ragionare e secondo me questa è una cosa che dovrebbero fare anche molti imprenditori, ho imparato a ragionare sul lifetime value, volevo anche scrivere quando avrò il tempo magari ci scriverò sopra qualcosa, probabilmente ho già in testa di scriverci un libro su quello che io chiamo il lifetime marketing, perché l'errore che commettono in molti è di fissarsi sulla customer acquisition, cioè sull'acquisizione, se guardi un sacco di nostri colleghi si promuovono con la frase vuoi avere più clienti, vuoi ottenere più clienti, vuoi avere nuovi clienti, vuoi trovare nuovi clienti, sì, ok, ma in realtà tu puoi guadagnare molto dai clienti che hai già, perché se tu quei clienti gli offri valore continuativo per sempre, quei clienti ti pagheranno per sempre, questo non vuol dire che devi spremere i clienti che hai, ma devi continuare a offrirgli valore nel tempo e statisticamente è a seconda del settore dalle 7 alle 32 volte mi pare più facile rivendere qualcosa a un cliente già acquisito che trovare un nuovo cliente e troppi secondo me si concentrano e concentrano i propri sforzi e i propri investimenti sull'acquisition anziché sulla retention, quindi la chiave secondo me è la retention, quando tu hai mille o diecimila o anche cento clienti che sono tuoi fedeli perché sono tuoi fan e a quel punto cosa devi fare di più? Che bisogno hai di trovare nuovi clienti continuamente. Certo, chiaro. Quindi ti preoccupi di fare e di creare un qualcosa per loro. Sì, io ho fatto questa promessa di offrire regalare no, offrire almeno un nuovo corso ogni settimana, questa è la grande promessa e ovviamente anch'io ho spostato quelli che sono i miei obiettivi dal marketing alla progettazione del prodotto. Sì. Ok, quindi creando una piattaforma che ha sempre più contenuti, contenuti sempre di maggior livello, di miglior livello, fatti meglio e più aggiornati, io credo di continuare a dare valore nel tempo. quindi anziché essere ossessionato con l'acquisizione dei nuovi clienti sono più che altro ossessionato sulla realizzazione di nuovi corsi per la mia piattaforma. Un po' come i tool, no? Il modello di business dei tool, come può essere un SEMRAS, un SERZOOM, loro sono più preoccupati di creare nuove funzioni all'interno del tool piuttosto che di trovare nuovi clienti perché è ovvio che quando il tool ti piace e ti serve per lavoro non è che lo cambi o smetti di usarlo. Cioè, noi, tu sai bene Marco quanti tu lo usi con la SEO. Certo. Ti verrebbe mai in mente di abbandonare che ne so, Majestic o non so se usi HRF o quali usi di classico o non usare più Screaming Frog ma neanche per sogno. E quindi Screaming Frog cosa fa? Improvvisamente mi sono sentito nudo. Quando ho detto senza scrivere oddio, ti ho visto saltare infatti e quindi secondo me quando tu crei una cosa di valore che serve che è utile a un certo punto sì, devi trovare nuove quote di mercato nuovi clienti certamente però quando ce li hai questi continuano a rimanere con te. capito questo è il concetto. La parte inbound di questo progetto io sto facendo dei collegamenti così vado vai collega collega mi piace è il il gruppo facebook che avete creato? No, in realtà più cose nel senso gli strumenti di acquisizione di acquisizione di contatti diciamo sono in parte il gruppo facebook abbiamo un gruppo facebook molto forte da zero a seo con 33.000 persone mi pare e poi è super attivo no? le live quasi ogni giorno avete live adesso facciamo tante live facciamo anche le live adesso le facciamo a rete unificate anche su youtube dappertutto siamo un po' usciti dalla seo parliamo anche di altre cose però oltre al gruppo un altro asset molto forte è il blog di studio samo il blog di studio samo è uno dei più punti di riferimento posso dire del settore e porta un sacco di visite al giorno quelle visite ovviamente il modello inbound classico se vogliamo deriva dal blog il blog è il cuore dove tu vai a lavorare su quella che è la domanda informativa su quelle che in gergo seo sono le query informational per poi traghettarle attraverso la call to action verso la vendita quindi ti fai trovare in una fase di esplorazione di ricerca con tutti i termini chiave legati al mondo del digital marketing dopodiché in maniera soft li porti a conoscere la nostra piattaforma quindi oltre al gruppo c'è anche sicuramente il blog che è uno dei capisaldi se vogliamo di studio samo e poi c'è l'advertising naturalmente noi siamo ora vi state spostando su quell'argomento ma più che spostando è un argomento che noi abbiamo abbiamo sempre avuto a cuore sostanzialmente gli asset forti di studio samo sono l'advertising e la seo noi siamo posso dire tranquillamente che siamo forti sull'advertising tanto quanto sulla seo almeno a livello di test e di team siamo abbiamo una squadra molto molto brava e siamo più famosi con la seo perché io io e il buon Flavio siamo purtroppo partiti da quello spiga che proveniamo dalla seo quindi logica vuole che siamo un po' più conosciuti per quel verso poi abbiamo fatto anche il gruppo abbiamo fatto anche la traduzione del diarto seo quindi abbiamo anche consolidato la nostra parte seo però c'è la parte advertising che è un po' meno conosciuta forse ma stiamo cercando di espandere anche quello e portarlo allo stesso livello della seo senza abbandonare ovviamente la parte della seo però ecco quello che vorremmo arrivare al punto e in buona parte siamo già arrivati di essere considerati insomma il punto di riferimento del digital marketing non solo della seo non perché la seo meno male che non l'avete chiamato seo samu no infatti ma infatti quando mi chiedono ma ci vuole fare la chiave nel nome a dominio ma insomma è una pensata che va fatta va fatta la pensata sai cosa mi è venuto in mente adesso adesso vado fuori un po' dal tuo percorso eccetera vai vai il fatto di fare video perché sto facendo dei collegamenti fra i video fra il blog e l'inbound e ti porta ad avere dei pensieri differenti da quelli che hai quando scrivi sul blog io adesso per esempio ho il mio blog e ho youtube che sto scoprendo adesso io adesso io sono più portato a fare un video su youtube che andare a scrivere un articolo sul blog è vero questo è un cambio paradossale io vengo dai blog io ho sempre scritto sempre posizionato blog siti pagine web chiamiamoli come più vogliamo ma adesso la parte video sta prendendo anche una bella fetta proprio nella testa delle persone assolutamente a me mi sta cambiando molto penso che sia lo stesso anche con le live assolutamente sì assolutamente sì ci sono esempi anche oltreoceano abbastanza importanti se pensi a Neil Patel che anche lui ha convertito di recente il blog in vlog praticamente perché un tempo scriveva dei pillar molto lunghi adesso fa molti più video rispetto a a quanto scrive a me piace piace il formato video non mi dispiace credo però che non sempre sia il formato ideale sì sì non dobbiamo farci prendere dal monte magnite posso dire nel senso che non bisogna per forza fare un video al giorno in qualunque settore operi o qualunque cosa fai per forza certo ma al di là proprio del fatto delle regole di fai questo per andare avanti eccetera è proprio un cambio di testa proprio io vedo per esempio che le nuove generazioni lo vedo perché ho due bimbe no? sono più proiettate verso i video cioè loro non aprono mai un sito web mai partono da TikTok partono da YouTube partono da quello non più dal blog adesso sono un po' uscito fuori no 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 è molto bello perché questo è un problema sul un problema una una cosa molto importante per capire cosa succederà in futuro in questo settore sì perché il fatto che hai detto e tu da SEO dovresti dovresti un po' tremare a questo pensiero assolutamente in effetti se se un domani ovviamente ragionando portando all'estremo no? se tutte le nuove generazioni non vanno più sui siti ma utilizzano solo le app e solo le app del momento come TikTok prima magari era Instagram prima ancora Facebook eccetera c'è anche la scomparsa proprio della ricerca c'è anche la scomparsa di Google se vogliamo sì perché già basti pensare anche adesso mi rifaccio sempre a ruota libera a uno studio di Ryan Tishkin di un po' di tempo fa dove praticamente su mobile le ricerche con zero click sono più del 60% sì sì fra l'altro c'è pure discover che ce l'hai nativo sul cellulare c'è il risultato zero c'è il risultato zero che non ti fa cliccare molte volte quindi Google è il motore di risposta quindi siti web ci saranno ancora non ci saranno più e la SEO come si evolverà come si evolverà se useremo magari Alexa o adesso spero che non parta lo sapevo o Google insomma o l'assistente se utilizzeremo solo gli assistenti vocali per esempio per cercare la SEO cambierà tutto perché non ci saranno più le SERP quindi questo cambierà anche il nostro modo di lavorare per adesso secondo me ti dico che il formato video è un bellissimo formato il formato testo ha ancora senso per certe tipologie di ricerche ne parlavo quando ho conosciuto il mitico Aranzulla il mitico Salvo diceva io non faccio video perché uno non è nelle mie cose non è nella mia natura è due perché il mio pubblico non cerca un video il mio pubblico cosa fa? prende il mio pipardone di testo lo mette a metà schermo e lo legge mentre fa le cose perché mentre risolve i problemi legge e quindi il video non è il formato giusto per Aranzulla per quello per certi tipi di ricerca ci sarà sempre secondo me un blog testuale che è più adatto quindi non buttiamo via tutto il bambino con l'acqua sporca come si usa dire perché adesso i video sono fighi allora non dobbiamo più fare video secondo me ha ancora senso fare blogging ha ancora un bel senso scrivere grande grande quindi che consiglio diamo a chi vuole inserirsi nel mondo delle digital bella domanda bellissima domanda e adesso va molto di moda una parola uscite adesso subito fin che potete uscite fin che potete ok uscite fin che potete se proprio non potete quello che va molto di moda adesso si parla di T-shape skills no? skills a forma di T sì nel senso che imparate tutto e poi specializzatevi come una T verticale e orizzontale quindi bisogna sapere un po' di tutto un SEO non può non sapere nulla di advertising non sapere nulla di mail marketing bisogna avere un'infarinatura di tutto quello che è il digital marketing anche se non è il tuo campo e poi specializzatevi in una delle discipline che vi si confà di più quando è il momento di specializzarsi posso dire fate come ho fatto io apritevi un progetto personale e spacciatevi le mani aprite partita IVA immediatamente aprite aprite un'azienda assumete 50 persone e via no 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 state fate i bravi partite piano partite agile partite snelli però sponcatevi le mani e io lo dico da uno che vende formazione non la formazione è bellissima ma non basta se non vi sponcate le mani i corsi sono belli i corsi sono fighi vi danno tanta cosa tanta roba ma se parlo della SEO adesso come esempio se non prendete un sito e non ve lo ottimizzate o anche ve lo ammazzate di link ma fate qualcosa sulla vostra pelle per vedere veramente come funzionano le cose oppure fate fate uno stage anche gratuito però andate a lavorare sul pezzo perché bisogna sponcarsi le mani adesso molti purtroppo giovani oltre a usare TikTok e non andare più sui siti hanno un'altra cosa che fanno ovvero pensare di essere già arrivati magari a 22 anni a 21 anni magari perché hanno fatto qualche migliaio di euro con le affiliazioni vendendo le cremine di dubbia di dubbia efficacia possiamo dire e si credono già arrivati perché sanno fare due cose con Facebook Ads e sanno tenere il CPM basso ma ragazzi ok sapete tenere il CPM basso ma noi ne abbiamo visto io salvo anche tu salvo da quanti anni è che fai questo mestiere ne abbiamo visto di cotte di cruze prima di diventare uno strategist che è il livello più alto devi aver fatto veramente la bassa manovalanza e avere mangiato cacca per tanti tanti anni non è che ti svegli anche chi ha mangiato cacca per tanti anni si trova in difficoltà certe volte immagino chi non ha mai avuto esperienze nel settore o non ha mai messo come dici tu le mani nell'impasto e a sporcarsi proprio realmente le mani Jacopo le persone che vogliono contattare te come possono fare? è facilissimo allora mi trovate basta scrivere Jacopo Matteuzzi viene fuori di tutto quindi mi trovate soprattutto su Studio Samo la mia mail è jacopo chiosola studiosamo punto it facilissima potete contattarmi su Facebook dove diavolo magari non do il cellulare perché è un po' troppo personale ma mi trovate con estrema facilità Jacopo Matteuzzi ci sono solo io quindi magari Marco Salvo tu ne hai qualche omonimo in più di me però qualcuno se scrivete Jacopo Matteuzzi su Google mi trovate con gran facilità e potete contattarmi chiedere di me a Studio Samo o anche su Facebook non c'è problema perfetto Jacopo io ti ringrazio veramente tantissimo per essere passato da queste parti per aver accettato il mio invito e per aver messo in discussione tutto e per averci dato tutti questi grandi consigli per averci fatto vedere qual è stato il tuo percorso eccetera grazie veramente tanto ci vediamo alla prossima tu lo hai anticipato durante l'intervista e quindi con te faremo un'intervista doppia con te e con Flavio così chiudiamo il cerchio va bene? molto bene non vedo l'ora ci vediamo alla prossima ok? ciao a tutti ciao Marco grazie ciao